con l'italia vediamo i tre colori in verde sempre cresce cresce la lega che cresce ma ha finito ecco qua la palestra bella bellissima veramente uno splendore e qua giocano i bambini praticamente guardate quanto è bella la palestra dell'asilo nido è grande veramente grande pulitissima e qui i bambini fanno palestra si divertono socializzano c'è anche il canestro vedo c'è anche il canestro giocano anche a pala canestro i bambini qui ebbene i bunga bunga hanno fatto un manifesto pietoso veramente dovrebbero vergognarsi qui questa amministrazione ha ristrutturato questi ambienti ha cambiato tutte le strutture gli infissi i bagni e hanno fatto una foto della facciata che loro non hanno ristrutturata e che noi abbiamo ereditato e che risulteremo 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 risulteremo